Io sono Gabri Costa, ascoltatemi, vi devo dire una cosa molto importante, parliamo seriamente. Ne abbiamo fatta di strada in questo gioco Night Slashers Remake. Ci sono ancora altri mostri da abbattere e da eliminare. Ora c'è questo mostro che fa tornare in vita a tutti. Mi tocca affrontare di nuovo questo mostro di roccia, come avevo affrontato nei livelli precedenti. Vediamo se riesco a toglierlo di mezzo. E poi voglio sapere da voi se questo è il sesto livello e facciamo. Qui mi tocca saltare e colpire l'ericottero. Devo saltare e attaccare contemporaneamente. Vita bonus guadagnata. Facendo aumentare il punteggio si guadagna le vite. Vite extra. Per evitare di fare game over. Mi stanno arrivando ancora di esti mostri, non finiscono mai. Sono in maggior numero. Mi ritorna anche il pazzo dottore con i suoi bisturi. Quello che avevo affrontato nei livelli precedenti. E' un peccato che questi boss non hanno nomi. Mi sa che questo livello è lungo. Quello che avevo davvero. Di nuovo il vampiro Quello che avevo affrontato Nei livelli precedenti Tolto di mezzo E questo sarebbe il dio della morte Come lo fermo Ha tantissima salute E poi la osa e mi fa innervosire Che gira una trottola Usando la falce Non posso attaccarlo frontalmente Mi tocca saltare e colpire Come facevo un elicottero E così muoio un casino di volte Devo finire alla svelta e livello Perché il video sta durando Tantissimo Si allunga in maniera incredibile Ecco forse sto vincendo E ho vinto Vi saluto Iscrivetevi al canale Mettete un mi piace E ho vinto Mettete un mi piace E ho vinto E ho vinto E ho vinto E ho vinto